Non c'è la scaletta? Sto scherzando? Stai scalettando? E' un attimo Stefano, mi fa simpratico. 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 E' un attimo Stefano. E' un attimo Stefano, mi fa simpratico. E' un attimo Stefano, mi fa simpratico. Grazie! Notizie dal fronte occidentale. Gli arditi militari difendono le posizioni allo stremo delle forze, tenendo testa al nemico che resiste nelle trincee. I bollettini parlano di uno stato. Lo Stato Maggiore ci ha informato che un ultimo decisivo attacco è previsto nei prossimi giorni. Aia! 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 Un salotto! Un momento un po' più sano se c'è! Un salotto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.